Magari prendere gola l'ultimo minuto ti lascia un po' così, ma sicuramente non ne risentirà il gruppo. Siamo abituati a tutto, siamo talmente uniti che non ci facciamo neanche a casa queste cose. Una partita comunque particolare, valgono i tre punti come tutte le altre, però magari ci sarà un'atmosfera diversa. Una partita difficile, sicuramente anche a livello tattico, bisognerà essere bravi a capitalizzare quello che si creerà. Magari il centenario, il momento comunque di forma che hanno e di sicurezza, magari anche nei propri mezzi che ha portato questa serie positiva. Bisogna stare attenti, molto attenti. Sicuramente col Torino è uno scontro diretto in cui i punti magari possono essere un po' più pesanti, ma alla fine sono due partiti uguali, come tutte le altre sette che verranno.